Massimiliano Dindalini resta segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico, ma limitando il mandato al referendum costituzionale con la conseguente indizione del Congresso Provinciale ad ottobre. Una conferma arrivata giovedì sera tardanotte solamente alla seconda seduta dopo il rinvio di martedì scorso. La direzione provinciale del PD di Arezzo si legge in una nota del Partito Democratico, aperta ai segretari delle unioni comunali e sindaci, si è riunita in due sessioni. La prima il 5 luglio e per il gran numero degli interventi è proseguita il 7 luglio. Ha ascoltato la relazione del segretario Massimiliano Dindalini che ha rimesso il mandato alla direzione stessa e nelle due serate si sono registrati oltre 40 interventi che hanno contribuito a un'analisi approfondita del voto di giugno e delle prospettive del PD. Al termine della seduta di ieri sera, prosegue la nota, sono state messe in votazione le dimissioni di Dindalini che sono state respinte. I presenti in sala in quel momento erano 52 eventi diritto e di questi 35 hanno votato a favore. Uno, lo stesso segretario, si è astenuto e i rimanenti sono usciti dalla sala. Successivamente è stato messo in votazione un documento presentato dal PD di Cortona ed emendato da Vincenzo Ceccarelli sull'analisi del voto e l'avvio di un percorso molto ampio di riflessione interna al PD capace di coinvolgere livelli locali, regionali e nazionali. Questo documento, che contiene anche l'indicazione di respingere le dimissioni di Dindalini, è stato approvato all'unanimità. Adesso la discussione del PD provinciale, conclude la nota, proseguirà con la convocazione dell'Assemblea provinciale con l'organizzazione di incontri sul territorio.